Musica Musica Colleghe e colleghi, care studentesse e cari studenti Per l'Università di Trieste, nel suo centenario, è un onore e una grande emozione darvi il benvenuto nella solenne occasione del conferimento delle lauree onoris causa a due personalità che hanno contribuito a scrivere la storia di questa terra Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella cui vanno il nostro più profondo ed efferente rispetto, riconoscenza, affetto e Boris Pakor, già Presidente per un decennio della Repubblica di Slovenia al quale estendiamo la nostra sincera gratitudine per la sua preziosa presenza Noi, Roberto Di Venarda, professore ordinario di malattie odontostomatologiche Rettore magnifico dell'Università degli Studi di Trieste Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore su delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del linguaggio, dell'interpretazione della traduzione del 13 settembre 2023 Vista l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca conferiamo a Borut Pakor la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza onoris causa per l'alto contributo dato alla trasformazione della frontiera adriatica da territorio di divisione ad area di dialogo e di edificazione del processo di integrazione europea nella comune coscienza dei diritti umani e nella luce delle libertà democratiche Noi, Roberto Di Venarda, professore ordinario di malattie odontostomatologiche Rettore magnifico dell'Università degli Studi di Trieste Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore su delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione del 13 settembre 2023 Vista l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca conferiamo a Sergio Mattarella la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza onoris causa per l'alto contributo dato alla trasformazione della frontiera adriatica da territorio di divisione ad area di dialogo e di edificazione del processo di integrazione europea nella comune coscienza dei diritti umani e nella luce delle libertà democratiche La collaborazione con l'assessorato territorio e ambiente della regione siciliana e l'INGV è veramente strategica per noi Le nostre tecniche possono caratterizzare il territorio, tutto il territorio siciliano sicuramente per una sicurezza ambientale sostenibile chiaramente i vari ambienti, marino, costiero in particolare tutta la zona etnea dove le problematiche sono di vario tipo ma c'è anche un tesoro, un grandissimo tesoro dal punto di vista ambientale Oggi è un'importante giornata a Roma, anche all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con cui come regione siciliana e assessorato al territorio e all'ambiente stiamo avviando nuove forme di collaborazione collaborazioni che già esistono sul territorio penso alla sede di Palermo e alle attività che vengono fatte o alla straordinaria attività che viene fatta sull'arcipelago delle eolie o ancora all'osservatorio che c'è a Nicolosi sull'Etna un laboratorio per tutto quello che riguarda il mondo sismico e vulcanologico Quindi queste sono tutte le stazioni che hanno registrato un eventino e il sistema lo mette qui I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato un chilo di cocaina in transito sullo stretto di Messina, arrestando un soggetto nonché ulteriori oltre 500 grammi di hashish inviati a mezzo di un pacco postale In particolare, durante i controlli ai passeggeri e dai veicoli in transito sullo stretto le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo un'utilitaria appena sbarcata dal traghetto condotta da un giovane calabrese il quale asseriva di essere un tecnico e di essere diretto verso Catania per la riparazione di una caldaia I militari, insospettiti dalla circostanza che il conducente viaggiasse su un'auto noleggiata e soprattutto, come non avesse alcun tipo di attrezzatura al seguito decidevano di approfondire il controllo Il fiuto del cane antidroga Gimli già protagonista di recenti operazioni della specie ha fatto il resto, consentendo il rinvenimento, nel bagagliaio, di un plico con all'interno il narcotico Nel dettaglio, la sostanza era stata abilmente occultata nel portellone della vettura avvolta nel cellofane ed impregnata di una sostanza oleosa contraddistinta dal caratteristico odore di petrolio per tentare di confondere l'infallibile olfatto del cane.Lo stupefacente destinato alla vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio siciliane avrebbe consentito un ipotetico guadagno illecito di oltre 250 mila euro nelle casse della consorteria criminale destinataria del prezioso carico L'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti ed aggregato alla casa circondariale di Gazzi Le indagini prontamente attivate hanno permesso di risalire al destinatario un soggetto residente nel capoluogo peloritano segnalato all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti I carabinieri della stazione di Gravina di Catania, supportati hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gagliano Luca 34enne catanese già noto alle forze dell'ordine I fatti in questione si sono verificati come documentato dalle indagini dei militari dell'arma tra il luglio e il settembre 2023 all'interno delle aree di parcheggio di un parco commerciale della zona ed hanno avuto ad oggetto il furto dei fari anteriori di una Fiat 500 di due Fiat 500 XL il furto dei fari anteriori e posteriori di due Jeep Renegade il furto dei fari posteriori di una Fiat 500 XL nello specifico l'indagato nel corso della scorsa estate avrebbe commesso sei furti coadiuvato da complici a registrare le immagini dei ladri in azione sono state le telecamere di videosorveglianza installate presso il centro commerciale le cui immagini sono state attentamente analizzate dagli investigatori dell'arma di Gravina in particolare, dopo il primo furto avvenuto il 28 luglio 2023 i carabinieri hanno accertato che il furto era stato commesso da due uomini i quali avevano raggiunto il parcheggio di interesse a bordo di una Seat Ibiza risultata di proprietà del Gagliano grazie al raffronto tra i fotogrammi estrapolati dalle immagini ed alcune foto in possesso dei militari che ritraevano la persona del 3 34enne si è ritenuto di poter identificare nell'indagato l'autore del furto le risultanze investigative così fornite dai carabinieri di Gravina di Catania hanno consentito alla procura della Repubblica di Catania di chiedere e ottenere dal GIP del Tribunale Etneo l'emissione del provvedimento cautelare della custodia in carcere a carico del Gagliano che è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Lan i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa arrestato un ragazzo catanese di 22 anni residente nel quartiere villaggio Sant'Agata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in particolare gli investigatori hanno scorto più volte il giovane in zone calde della città per quanto riguarda lo spaccio di droga munito di una valigetta 24 ore questo insolito abbinamento in capo ad un giovane con indosso una tuta ginnica ha insospettito i militari che hanno organizzato un dispositivo di pedinamento e appiattamento discreto e a distanza per verificare da dove provenisse e cosa portasse nella valigetta così facendo i carabinieri sono riusciti a risalire alla potenziale base logistica del ragazzo per la sua attività illecita una palazzina del villaggio Sant'Agata pianificati quindi tutti gli aspetti operativi hanno deciso che quello fosse il momento giusto per far scattare il blitz i militari divisi in due squadre d'intervento la prima si è così posizionata in modo da bloccare ogni possibile tentativo di fuga dall'edificio mentre la seconda è entrata silenziosamente nell'androne e piano per piano ha cominciato a ispezionare i locali condominali dal sottoscala al sottotetto più all'ultimo piano i carabinieri si sono infine trovati davanti a due porte una aperta e una chiusa a chiave messa in sicurezza la soffitta i militari hanno così fatto irruzione nell'appartamento dove il ragazzo viveva con i genitori poi, i carabinieri sono saliti nel vano sottotetto e l'anno è stata recuperata la valigetta e un trolley dove all'interno erano presenti quattro buste di plastica contenenti ognuna più di 500 grammi di marijuana tutto il materiale e la droga ritrovati sono stati sequestrati mentre il pusher è stato arrestato quindi è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari grazie a tutti grazie a tutti